Alessandro Piccini si ricandida a sindaco di Cantiano. Mentre sta per concludere un mandato amministrativo trascorso nella perenne gestione dell'emergenza, il primo cittadino punta a proseguire quel percorso di ripartenza del comune alle pendici del Catria. Un'assunzione di responsabilità e una dichiarazione di intenti confermata anche alla presentazione dell'edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli, uno degli eventi simboli del rilancio cantianese. Non è stata una scelta semplice perché credo che quello che lasciamo alle spalle sia stato il mandato più difficile dal dopoguerra ad oggi. Oltre a quelle emergenze che hanno vissuto tutti, quindi il Covid, l'aumento dei prezzi, a Cantiano è toccato tre anni di lavori sulla direttrice principale, sulla Flaminia, otto mesi di chiusura fisica di accesso verso l'Umbria e purtroppo la devastante alluvione del settembre del 2022 che avrebbe potuto azzerare le sorti del Paese. Quindi oggi soddisfatti di aver comunque intrapreso una strada che rilanci ormai in maniera certa le sorti del Paese, tanto ancora c'è da fare. Abbiamo un Paese da ricostruire sia nelle infrastrutture ma anche nella serenità dei cittadini. Quindi è per questo, per senso di responsabilità, per dare continuità a quella difficile azione amministrativa che vede tessere ormai da mesi, da un anno e mezzo, rapporti con i più alti livelli istituzionali, dal Ministero, dalla Regione, dagli enti e dai soggetti attuatori che abbiamo voluto dare continuità a questa nostra azione e inaugurando, mi auguro, una fase di rigenerazione urbana e di crescita prosperosa del Paese.